Eccoci, avevo voglia, avevo voglia, sono carichissimo, sono carichissimo, di entrare in onda, ancora buon pomeriggio cari telespettatori, buon pomeriggio a Francesco Chiardi, ma infatti ti vedo così a pallettoni, carichissimi, sai perché? Perché? Perché dopo un mese fondamentalmente, che è un mese che non lo vedo, ritrovo Enzo Mauri, buonasera, buonasera, lieto di essere di nuovo vostro ospite, eccomi qui di ritorno, corsi e ricorsi, corsi e ricorsi storici, allora domenica ero in automobile, stavo andando insomma in un luogo e ascoltavo Radio Cusano Campus, poi ha perso la frequenza, nel ritrovare la frequenza, hai sentito Enzo? No, sono capitato su un'altra radio famosissima di cui non farò il nome, che ha compiuto 57 anni proprio in quel giorno domenica e noi oltre che ospite abbiamo in collegamento un altro conduttore televisivo e radiofonico che è stato un conduttore radiofonico proprio, se non sbaglio Enzo, di quelle emittente lì, insomma lo diciamo, Radio Monte Carlo, la radio italiana nel Principato di Monaco. E diamo allora il benvenuto e ringraziamo veramente tantissimo per aver accettato il nostro invito a Ettore Ardenna, grazie mille di essere con noi, Andenna. Ciao Ettore. È divertente perché la prima volta che scrissero il mio nome come animatore di Radio Monte Carlo e ho il documento ufficiale mi avevano scritto Ettore Ardenna, sono corsi e ricorsi storici. Pensavo più a Antenna, no? Nome Nomen dicevo. No, guardi, io mi chiamo Acchiardi di cognome, quindi le lascio immaginare, Acciardi, insomma, ne succedono di tutti i colori, ma è bello così, insomma. Succede, succede. Stiamo parlando della storia della radio e della televisione italiana qui, eh? Assolutamente sì. Sì, ecco, com'è cambiata? Partiamo dalla radio. La radio perché poi sembra non cambiare mai, fondamentalmente, ma qualcosina sarà cambiato. In cosa? Era più talk prima la radio, era più parlata, meno intramezzi musicali, meno pubblicità? Beh, il detto di quel genio che inventò Radio Monte Carlo, che si chiamava Noël Coutisson, era peu blabla et beaucoup de musique, quindi poche chiacchiere e tanta musica. E quello fu il dogma che ci accompagnò per tutta l'esistenza dei primi 10-12 anni di quella Radio Monte Carlo, che cambiò il modo di fare la radio in Italia, perché da ingessata, che era prima, diventò quella che poi fu un po' l'esempio per tutte le prime radio private. E cos'è cambiato da allora? Che allora c'era innovazione, oggi c'è omologazione, oggi sono tutte uguali. Eh, purtroppo è così, Enzo. Sì, è così. Beh, ricordiamo un po' come sei approdato a Radio Monte Carlo, stiamo parlando di ormai qualche anno fa, diciamo così, e sei stato... 12 dicembre 1967. Il giorno del mio compleanno, tra l'altro, io sono nato il 12 dicembre, qualche anno prima, non troppi a dir la verità, e tu sei stata una delle scoperte del mitico Noël Coutisson. Esatto, venne a Milano, dove io frequentavo l'Accademia dei Filodrammatici, perché mi piaceva la regia, per cui erano tre anni, si entrava all'epoca per esame e non per raccomandazione. Ricordo che su 700 eravamo entrati in 22, di questi 18 volevano fare gli attori, quindi i primi due anni, il primo anno era dizione e recitazione, il secondo anno era solo recitazione, il terzo anno era avviamento alla regia ed eravamo in quattro e io ero uno dei quattro. Poi dopo un anno che ero lì a fare dizione e recitazione con la signora Sperani, che ci insegnava la perfetta dizione, perché una volta non entravi in radio o in televisione se non avevi la dizione toscana, altri venivi bocciato duramente, arrivò un signore che era bleso, quindi parlava un po' con la pizzetta così, e parlava così in francese con la pipa in bocca, per cui totalmente incomprensibile. Adesso per quanto riguarda anche gli accenti e l'addizione, le cadenze in radio, diciamo che ne sentiamo veramente di tutti i colori. L'addizione adesso può essere anche imperfetta, cosa deve essere perfetta? La calata. E soprattutto deve essere perfetto il personaggio ad oggi, giusto Andenna? Ma una volta vi dirò, Coutisson, che era il direttore di una radio francese che trasmetteva in italiano dall'estero, chiamò una professoressa di italiano dell'università di Nizza, che mi fece l'esame, cioè mi chiese, volle parlare con me, per sentire qual era la mia dizione, perché se non fosse stata una dizione perfetta toscana, non mi avrebbero preso. Stiamo parlando del 1967, quante cose sono cambiate oggi. Tantissime. Io inordidisco sentendo persone, giornalisti per lo più, ai quali mancano tre lettere d'alfabeto che parlano senza la S e la E, che vanno in video, vanno in audio. Una volta era inammissibile tutto ciò. Enzo Mauri, cosa serve adesso per andare in video e in audio? Forse è quello che diceva Francesca, l'essere personaggio. Esatto, vale più il personaggio che magari anche la bravura, il modo di saper parlare, di porre le cose. Beh, diciamo che adesso si tiene soprattutto appunto la figura, perché c'è stata questa commissione, questa unione tra la radio e la televisione, per cui conta molto l'aspetto, la popolarità anche sui social, che se vuoi può essere un pro ma può essere anche un contro. Nel senso che magari di fronte al microfono, di fronte alla telecamera, ci si presentano persone che magari non... Bisogna avere un bagaglio culturale notevole per fare radio e poi se vuoi anche televisione. Magari questa parte un pochino tende un po' a scendere. A mancare. A mancare. A mancare, anche perché quando andavi in onda tu, correggimi Ettore se sbaglio, si teneva poi molto appunto all'aspetto sonoro, appunto al tono della voce. Tu fosti selezionato insieme agli altri in primis proprio per il tipo di voce che avevate, no? Sì, esatto. Difatti Cutisson venne a questa Accademia dei Filodrammatici e fece un provino a tutti noi perché cercava proprio delle voci italiane perché aumentava le ore di Radio Monte Carlo, che era cominciata poco più di un anno prima di quando arrivai io. Per cui fece un provino a tutti, ci fece leggere dei testi, ma ne facevamo tanti. Io di fatti lo feci insieme ai colleghi senza assolutamente prendere molto in considerazione la cosa. Un mese dopo arrivò una chiamata, mi disse vuol venire a fare un esame più specifico qui a Monte Carlo. Io saltai in macchina, arrivai a mezzogiorno di quel 12 dicembre 1967 a Monte Carlo. Alle 15 mi fecero un provino in studio in cui mi fecero leggere anche lì dei testi e mi ricordo che, lo ricordo molto volentieri perché è scomparso pochi giorni fa, Jean Larigny che era il tecnico di origine italiana perché i suoi nonni erano livornesi, che mi fece il provino che a un certo punto mi disse sei troppo impostato. Coutisson vuole che ci siano delle nuance nella voce, quindi deve avere la voce che segua un po' il discorso che fai ma in modo agile, movimentato, non uniforme e io cercai, come sto facendo adesso, di interpretare questo tono come volle dire. Di non essere monotono potremmo dire, no? Anche perché poi vanno ad attirare l'attenzione dell'ascoltatore questi cambi comunque di tonalità, questi cambi di frequenza della voce. Allora io trovo, prego Ettore, scusami vai pure, io trovo che sia adesso arrivato il momento per quanto riguarda la radio e la televisione di capire un attimino in che direzione stia andando il tutto. Perché dico questo Ettore, perché dico questo Enzo? Per il semplice fatto che bisogna avere, quello che diceva Mauri prima in maniera corretta, oltre che il portamento, oltre che la presenza fisica, scenica, i numeri sui social. Se non si hanno numeri sui social non si va da nessuna parte. Si è presi in considerazione solamente da un certo tot di numeri. Perché è ovvio che comunque un personaggio che si deve proporre porta con sé anche la sua più o meno manciata di follower. Almeno così si pensa. Così si pensa, ma è quello che avviene. È quello che vediamo nei più grandi emittenti. Alcuni personaggi che a volte, mi dispiace dirlo, non hanno né arte né parte per quanto riguarda la televisione e la radio, che però vengono presi, vengono assunti, perché hanno i follower. Poi seguiti da chi? È un altro discorso ancora, perché magari non sono dei professori, dei luminari quelli che seguono queste persone sui social. Perché magari non trattano di argomenti legati alla scienza, magari Enzo. Ecco, Ettore, noi giovani dobbiamo riporre le armi? Dobbiamo prendere le nostre speranze e metterle da parte? Perché se non abbiamo 100, 200, 300 mila follower su Instagram o TikTok non andremo mai da nessuna parte? Oppure ci sarà un cambio generazionale in radio, in televisione? Cambieranno le cose? Quanto tempo abbiamo? Ce l'abbiamo abbastanza. Tutto il tempo a disposizione che vuole, Andenna. Domanda da un milione di dollari. Allora, io su facce di libro ho raggiunto il limite massimo, che sono i 5 mila amici. I miei figli hanno spinto, fa il gruppo, aumenta, assolutamente non voglio, perché è un impegno dover stare dietro a tutti questi. Loro vorrebbero che aprissi un blog, vorrebbero che facessi delle cose. No. No perché intanto passo dal presupposto che ho già dato. Secondariamente perché è una questione di pigrizia. Oggi come oggi, quello che io trovo, che ci sia un allineamento su una mediocrità verso il basso, generalizzata, che il pubblico accetta o torto collo. Perché? Perché i programmi oggi, sia in televisione che sui social, sui social io posso scegliere guardo o non guardo, non mi interessa. Lo stesso posso dire in televisione o in radio. Perché c'è un calo di audience di cui nessuno parla, ma è importantissimo della cosiddetta televisione generalista. Perché non vengono più fatti i programmi per il pubblico. Il pubblico si vede imporre dei programmi in funzione di quello che è il guadagno del produttore, detto fuori dai denti. E questo comporta che c'è una perdita di identità. Il pubblico è obbligato ad accettare questo che gli viene imposto. Però non ci sono più cose che vengono fatte per il pubblico, o quantomeno sono diventate molto rare. Il pubblico quindi non è più partecipe delle trasmissioni. Era un po' quello che accadeva quando hai cominciato a fare televisione tu, perché è tappa fondamentale di quelli che hanno cominciato a fare radio tempo fa. E poi è diventata appunto la televisione. Tant'è vero che la maggior parte dei conduttori, i quelli insomma più acclamati su televisione, vengono dalla televisione. E anche Ettore Andenna poi passò da Radio Monte Carlo a Telemonte Carlo, ma non solo. E soprattutto fu uno dei protagonisti, voi siete troppo piccini per ricordarlo, io qualcosa la ricordo, della TV dei ragazzi, la straordinaria TV dei ragazzi. Che ha formato tanti ragazzi. Ricordiamo queste trasmissioni che andavano in onda prevalentemente il sabato pomeriggio, perché il sabato pomeriggio, si sa, i ragazzi erano meno impegnati con i compiti, veniva scelto apposta questa fascia, perché comunque si avvicinava alla domenica, per cui erano più liberi. E il sabato pomeriggio c'era Ettore Andenna che andava in onda con delle storiche trasmissioni che ovviamente lascio ricordare a lui. Beh, il Viro d'Orlando, che era una trasmissione abbastanza avveniristica, perché faceva 10 milioni di telespettatori il sabato pomeriggio su Rai 1, di cui 3 milioni di adulti che cercavano di capire qual era il linguaggio che adoperavamo con i figli, perché la trasmissione iniziava con Barabitte e Barabitti, Strangugliotti e Maddezuppi, Valdomiri, Ponterbi e voi, Prodi e Baldostenghi, benvenuti all'Overtanga Carnascialesca. Ora riprovateci e vediamo un attimino. È interessante questo, è interessantissimo. Si collega al discorso di prima, adesso lo ritocchiamo. Assolutamente, voi con la televisione dei ragazzi comunque davate un'attenzione che magari ad oggi ai ragazzi viene un po' meno data. Sì, perché ci sono dei canali predefiniti, però era molto importante ciò che facevate voi, Andenna. Ma non c'era internet, attenzione. Quindi oggi ragazzi, io vedo, quando vedo mio nipotino, mesi 14, che con il ditino riesce già a muovere le immagini sul cellulare del padre, mi chiedo cosa succederà fra 15 anni, 10 anni. Quando vedo la nipotina di 6 anni che è fissa sul suo tablet e non sono d'accordo, come non è d'accordo uno degli zii che fa il medico, fa no, è troppo presto, dovrebbe cominciare dopo. La fantasia ha bisogno di un suo sviluppo. Mia nonna diceva sempre i bambini devono anche potersi annoiare perché fanno lavorare il cervello. Esatto, questo scaturisce anche una curiosità nel bambino che adesso magari, avendo tutto a portata di mano... Che diventa fondamentale. Ora, i bambini sognano non più di fare gli attori, non più di fare i cantanti, sognano di fare i content creator sui social. Ci hanno sempre spiegato, Ettore ed Enzo, che la radio e la televisione sono due linee parallele che viaggiano ma che non si incontrano mai anche perché portare la radio in televisione è una cosa che funziona e non funziona. Le grandi trasmissioni radiofoniche quando hanno provato a portarle in tv hanno fallito alla prima puntata e sono state cancellate. Radio Belva con Cruciani e Parenzo che era fondamentalmente la zanzana messa in televisione. Benissimo. Ora però perché nei programmi televisivi e radiofonici... Però, scusami il processo... Però, io negli anni 70 presi alcune trasmissioni che facevo in radio o quantomeno l'ispirazione ad alcune trasmissioni che facevo in radio e le portai sulle prime televisioni private e funzionarono alla grande. Cambiava il format magari. No, il format magari era lo stesso, cambiava soltanto il mezzo. Cioè da televisione a radio ne abbiamo visto tantissimi che sono passati. Rispetto a Radio Belva dicevo che ha fallito, cambiava il format. Allora, ricordiamo una delle più famose la bustarella, Ettore. Bravo, bravo. Che sta funzionando ancora oggi perché i pacchi sulla RAI praticamente è la trasformazione dalla busta al pacco ma è esattamente la stessa trasmissione. E quindi se parliamo di intrattenimento questo può funzionare ma con una trasmissione diversa d'attualità l'inchiesta non va. Sì, sì, ma di fatti stiamo parlando di intrattenimento puro. L'inchiesta ha altri ritmi tra le altre cose nonché altre basi. Esiste ancora l'intrattenimento perché il Varietà mi dicono essere morto. Il Varietà è morto perché hanno voluto farlo morire ma il Varietà la gente piacerebbe ancora vederlo. Tant'è vero che vanno a rivedersi su YouTube i vecchi i vecchi fantastici le vecchie domeniche in i vecchi programmi. Una delle trasmissioni più viste su YouTube sono le trasmissioni di Giochi Senza Frontiere ci sono quasi tutte e la gente si chiede perché non le fanno più ma perché è inimmaginabile perché chi la dovesse produrre non guadagnerebbe perché è una coproduzione internazionale per cui il budget sarebbe stretto e ben precisato e quello che la deve fare dice vabbè io dove guadagno non ho interesse a farla per cui non la rifaccio. Una questione economica. E dicono è impossibile rifarla perché sarebbe troppo costosa. Non è vero. Nello spettatore giovane tra virgolette che non è stato abituato a fruire il varietà come potrebbe prenderlo? Dovrebbe vederlo e appassionarsi ovviamente bisognerebbe oggi con i nuovi metodi con i nuovi sistemi con le nuove tecnologie c'è la possibilità dell'interazione e l'interazione dovrebbe essere usufruita e verrà e verrà usufruita senza dubbio in futuro molto più di quanto viene fatto adesso. Il pubblico bisogna farlo partecipare. Tutto quello che viene fatto quello che stiamo facendo noi adesso lo stiamo facendo con una finalità di quelli che guardano se no se ce la facciamo per noi possiamo farla in un salotto senza bisogno delle telecamere. Certo, Ettore vogliamo ricordare anche quello che è possiamo dire la tua punta di diamante l'hai accennata poco fa ovvero sia Giochi Senza Frontiere sei un record man perché sei quello che ha condotto il maggior numero di puntate. Sì, al mondo sono quello che ne ha fatto di più ne ho fatto 103 con grande amichevole rabbia del mio amico con il quale sono in contatto perché io sono in contatto tuttora con molti colleghi dell'epoca di Giochi Senza Frontiere e l'adioclimaco che è il Pippo Baudo portoghese la sua amichevole rabbia perché lui ne ha fatte 102 quindi per una puntata Martin perse la cappa poi sono in contatto con Justin Garlich che è un personaggio della televisione inglese John De Manuele il collega maltesi addirittura è ministro della cultura per cui mi scrive le email con .gov che è una cosa che mi diverte molto Daphne Bocotta sono in contatto con lei in Grecia è diventata una mega dirigente della televisione greca la Caterina Ruggeri che è una delle giornaliste di punta di Mediaset è rimasto questo senso di famiglia che c'era perché Giochi Senza Frontiere era un carrozzone che spostava 400 persone dall'hotel 5 Stelle alla tenda militare quando andavamo in Cecotovacchia per cui bisognava trattarsi e vivere queste esperienze per tutta l'estate da maggio fino a settembre e poi c'era un'organizzazione pazzesca io l'ho raccontata un po' nel mio libro nel mio ultimo libro dove c'è una tua mini intervista e dietro c'era un'organizzazione pazzesca che iniziava mesi e mesi prima assolutamente cominciava a novembre e dicembre tutto sotto legida dell'UE era l'Eurovisione che a Ginevra venivano fatte riunioni su riunioni in cui venivano discussi gioco per gioco tutti i giochi che non fossero pericolosi e che non ci fossero rischi e poi ancora durante le trasmissioni venivano fatte riunioni di 8-10 ore siccome ero il presidente dei presentatori mi toccava assorbirmene tutte dove tutti cercavano di tirare l'acqua al proprio mulino e dicono ah no quel gioco lì la corda non va bene perché passa attorno alla gamba non era vero era perché avevano delle pippe a fare quel gioco lì per cui cercavano di migliorare la situazione perché attenzione giochi senza frontiere nei paesi che perdevano tipo l'Ungheria piuttosto che la Repubblica Ceca venivano fatte il giorno dopo interrogazioni in Parlamento che dicevano perché ieri sera abbiamo fatto questa figura la televisione aveva un peso sull'opinione pubblica impressionante rispetto ad oggi però io vorrei tornare su quei due punti fondamentali perché il tempo purtroppo ce n'era tanto prima Ettore adesso sta stringendo è quello che ho chiesto quanto tempo io sono rimasto lì però perché non voglio perdere le speranze noi non vogliamo perdere le speranze però ci rendiamo conto che poi in televisione per diversi programmi non voglio citare non voglio fare nomi e cognomi vengono presi delle persone che hanno dei numeri sui social nemmeno così tanto alti possiamo anche fare ad esempio l'esempio di Chiara Ferragni per quanto riguarda Sanremo Condenna è un esempio anche un po' diverso basta vedere insomma lei è molto brava perché ha montato un circus non indifferente ed è stata oggi ha veramente una mega industria sotto le mani in Chiara molte cercano di imitarla ma lei è stata una che ha esordito e oggi ha montato un piccolo impero per cui bisogna fare sempre chapeau a quelli che riescono a creare qualche cosa che poi diventa importante oggi le difficoltà ripeto sono che si ignora il pubblico io parlo di televisione e di radio non di internet non di social perché il social è una scelta una scelta personale da parte di chi segue e lì bisogna mettere che poi il discorso è sempre lo stesso devi mettermi qualche cosa che attiri la mia attenzione ma è il mezzo che è diverso noi facendo la televisione avendo fatto la radio anche con Francesca riusciamo magari a fare entrambe le cose quindi radio televisione e in trattamento tutte e tre le cose e i social network perché è un tipo di comunicazione totalmente diversa noi scriviamo anche articoli noi siamo dei giornalisti quindi sappiamo fare anche quello chi usa i social e poi viene preso e buttato in televisione quando va in televisione mostra i suoi limiti però sei lì perché comunque viene da un mondo diverso però ci sei e questo fa rabbia guardate che il libro di Enzo è molto importante perché leggendolo con attenzione si segue proprio l'evoluzione che c'è stata nei decenni della radio ma la portata è uguale anche per la televisione sul mutamento non tanto dei gusti del pubblico il pubblico sempre quello è e deve essere la finalità assoluta di chi fa il nostro mestiere è il fatto che oggi il pubblico è stato messo in secondo piano quindi non c'è il rispetto per quello per il quale si lavora ed è questo che fa calare perché se io ho una cosa che non mi piace non la guardo e perché c'è una cosa che non mi piace e a tanti non piace però molte volte anche se a tanti non piace va avanti lo stesso e perché bisogna farsi delle domande perché quindi non è una scelta per il pubblico portare queste persone perché fondamentalmente la giustificazione che vi è andata è quella di io porto queste persone in televisione perché hanno un pubblico per avere un ritorno di quanto riguarda il pubblico e quindi è questa la situazione va bene io ringrazio davvero Enzo Mauri per essere stato insieme a noi non ci abbiamo il tempo per un'altra domanda ci abbiamo la pubblicità ci abbiamo la pubblicità Ettore due minuti di pubblicità e poi ritorniamo subito io intanto siccome prima sì 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 abbiamo capito ma non possiamo mostrarlo pubblicità a tra poco a tra poco a tra poco